Altri quattro alloggi popolari in favore dei margheritani. Alloggi, ricordiamo, rivenienti dal fallimento Sicel per un importo totale di 200.000 euro. Alla fine l'asta si è conclusa positivamente con l'acquisizione da parte di Arca Capitanata delle abitazioni che saranno assegnate attraverso un canone di locazione sociale a nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questo spiega il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto. Rappresenta un ulteriore passo in avanti nella lotta al disagio abitativo in città dopo i 13 alloggi già acquisiti dal fallimento Sicel nei mesi scorsi. Ora se ne aggiungono altri quattro per un totale di 17. Importante è stata la sinergia con Prefettura, Regione Puglia, Arca Capitanata. Ma non finisce qui, conclude Lodispoto. Siamo tra gli unici comuni in Italia ad aver presentato un progetto europeo nell'ambito dei finanziamenti Horizon 2020 che in caso di accoglimento ci consentirà di procedere alla ristrutturazione di tutte le case popolari edificate in zona armellina e su parte di via Barletta e di costruire quindi ulteriori nuovi alloggi in regime di edilizia popolare. Grazie. 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 Grazie.